A questo punto se siete d'accordo passerei un po' abbiamo raccolto diverse domande un po' per tutti i relatori e partirei volentieri con una domanda al professor Montecchio e gliela leggo. Il nostro lockdown, le azioni che stanno limitando i nostri movimenti porteranno benefici alle piante? Ebbè credo che li abbiano portati senz'altro, io ho la fortuna di avere un cane quindi il mio lockdown l'ho fatto con l'autorizzazione a fare qualche metro in più rispetto agli altri nei dintorni di casa, erano i famosi 200 metri ed era visibilissimo il fatto che in poche settimane la natura ha cominciato a riprendersi spazi secondo i suoi tempi e le sue dinamiche. Bastava vedere quanto belli erano i prati di questo parco, di questo argine non falciati, ricchissimi di piante anche da fiore e in quel momento poi si è fermata una cosa che è molto spesso deplorevole, non sempre ma molto spesso deplorevole, viene fatta a calendario e non perché bisogna che è la potatura. Ecco, spero di essere stato sufficientemente elegante usando queste parole, però ricordo che Plinio la chiamava Castrazio, l'albero non ha bisogno di essere potato, mettiamola così. Sebbene io faccia il medico degli alberi ogni tanto gli taglio un braccio prima che quel braccio cada in testa a una babysitter per intendersi, però va considerata la gravità dell'operazione prima di procedere a questa operazione. Quindi sicuramente si vedeva sia nel piccolo o su piccola scala che l'albero aveva tutta la forza che si meritava da una primavera, si vedeva sicuramente in tempo reale dalla vegetazione delle piante erbacee che sono quelle più veloci e lo si è visto per settimane. Poi tutto un tratto ci siamo, siamo usciti da questo, si è ripreso e si è cercato di fare la rincorsa contro il tempo perduto, quindi si è sfalciato tutto, non solo le rotatorie, i margini della strada, io sono d'accordissimo, vedo che il sindaco sorride, ma anche tutto il resto che si poteva provare a vedere come andava a finire. Io ho scritto anche un paio di amministrazioni, proviamo, già che ci siamo, proviamo a lasciarne lì qualche piccola parte per vedere come va a finire, tanto non fa male a nessuno qualche prato fiorito, c'erano le farfalle, c'erano le api, adesso tutti siamo contrari all'abuso, anche io per primo, di antiparassitari, di seccanti, anche perché è un effetto deleterio non solo sulle api, ma su un sacco di altri insetti. Però li abbiamo tolto da mangiare semplicemente, li abbiamo tolto da mangiare semplicemente correndo tutti in pochissimi giorni per recuperare il tempo perso, che a volte significa fatturato perso o incarichi persi, a fare tutto brutalmente a costo di lavorare fino a mezzanotte, togliendo da mangiare agli alberi stessi, togliendo da mangiare a tutta quella micro e macro fauna e flora che vive grazie al fatto, come diceva Morelli, che gli alberi esistono. Quindi quei due mesi abbondanti di lockdown hanno visibilmente dato un segnale forte del fatto che non siamo in ritardo per cercare di cambiare traiettoria, che non significa far passi indietro. Io continuo a dire non dobbiamo rinunciare all'uso delle lavatrici, non dobbiamo rinunciare al televisore per essere più ecocompatibili. Dobbiamo fare un passo di lato, trovarci tutti assieme con competenze diverse come quelle di questa sera, che è stato piacevolissimo ed è piacevolissimo sentire queste visioni diverse e tirar fuori uno, e forse ne vengono fuori più di uno, modi per un nuovo approccio più, e adesso sì mi permetto di dire sostenibile, verso questo nostro futuro incerto e non dico di farlo per i nostri figli, non dico di farlo per i nostri nipoti, lo dico egoisticamente, io voglio farlo per me. Grazie mille, ora una domanda a Valentina Ivancic, la confusione di cui lei ha parlato prima, anche la sua personale in quel momento, ha avuto un momento di grande empatia tra chi ci sta seguendo, nel senso che molti continuano a sperare vivamente che la possano in qualche modo incontrare dal vivo e che si possa superare questo momento esclusivamente virtuale, La prima domanda è, la medicina terapeutica si sta facendo timidamente anche in occidente, esistono già delle realtà concrete in Italia che fanno ricorso a questo tipo di terapie cliniche, parlando soprattutto di giardini terapeutici? Sì, senz'altro esistono realtà che sfruttano questa efficacia diciamo di coadiuvante nei processi di guarigione dei giardini del mondo naturale e di attività che si svolgano in questo ambiente o addirittura più direttamente l'attività di giardinaggio e di così via. Io vi ringrazio dell'empatia per la confusione perché quella continua, si vede che io con lo strumento tecnologico devo ancora prendere confidenza per usarlo bene per queste cose sociali. Sì, esistono queste realtà, credo che siano tuttora però delle realtà molto legate a situazioni locali. Insomma, non è un tipo di terapia che è molto diffuso, anche perché credo che si parte ancora da una prospettiva che non la vede veramente come terapia. Insomma, nella medicina mainstream diciamo, scusatemi l'anglicismo, io li detesto ma in questo momento non trovo altre parole. L'idea del giardino terapeutico, delle terapie, delle morticole e così via, è ancora un pochino marginale. Da noi il bagno di bosco giapponese, il Shenrin Yoku, che in Giappone è una forma di medicina preventiva certificata dal ministero, insomma te lo prescrive il medico, da noi è relegata alle pagine salute e benessere delle riviste di moda. Sono cose che vengono messe nei programmi delle spa, degli alberghi di busso, di località di montagna. Questo è un gran peccato perché c'è una reale efficacia di queste pratiche e c'è un gran bisogno di rivedere l'approccio terapeutico a tutte le forme di patologia, dalla riabilitazione cardiovascolare alle problematiche di disagio psicologico, di disagio sociale, di rivedere tutto quanto veramente in chiave olistica, cioè dell'essere umano nel suo insieme e dell'essere umano in rapporto al suo ambiente, l'ambiente naturale, tanto per cominciare. Insomma siamo nati per, siamo nati, siamo ancora biologicamente, degli esseri ancora biologicamente regolati sugli input del mondo naturale. Culturalmente, come diceva Giovanni Morelli, abbiamo fatto un'altra strada che ci ha portato a quella situazione di Central Park assediato da New York, ma il nostro organismo ancora è in risonanza con quello che ci può dare un giardino, un parco in termini di input di tutte le possibili tipologie e natura. Ed è forse per questo che stiamo così bene, forse per questo che incide così tanto su come stiamo. Finché questo non lo riconosceremo e non lo riporteremo alla coscienza, questo nuovo approccio, questa traiettoria appunto che non è un passo indietro ma è una modifica della rotta per non andare contro un muro, non riusciremo a trovarla. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Il verde può diventare un fattore di diseguaglianza sociale tra chi può permetterselo e chi vive in quartieri ricchi o zone ricche e chi invece vive in zone dove non c'è o non è curato? Chi vuole intervenire? Ivancic? Sul verde come diseguaglianza sociale, sì, il verde è diventato purtroppo un problema anche in quest'ottica qui, perché a maggior ragione se sappiamo che alberi, verde e natura sono in qualche modo essenziali per ritrovare un funzionamento armonico su tutti i punti di vista, diventa un problema quanto questo verde sia accessibile. Ora se l'umanità, abbiamo da qualche anno superato quella soglia del più del 50% dell'umanità vive in ambiente urbano e per ambiente urbano non si intende una cittadina così con quei quartieri giardino perfettamente pianificati con tot verde, eccetera, si intende quelle megalopoli fittissime senza un albero, un filo d'erba. Allora sì che diventa un problema l'accessibilità, quanto sia disponibile questo verde che è così essenziale per benessere, salute, sviluppo dei bambini e in qualche modo per permettere all'essere umano di raggiungere il suo funzionamento armonico e la sua umanità. È un problema che viene studiato abbastanza e che ci dovremmo porre, ci dovremmo porre senz'altro anche perché oltre alla salute individuale probabilmente ne dipende in buona parte anche se vogliamo quello che potremmo definire salute sociale, o comunque armonia sociale in queste condizioni di megalopoli che purtroppo sono sempre più diffuse. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Professor Montecchio? Sì, io avrei una risposta categorica su questa questione della disuguaglianza. È sufficiente girare. Io sono un insonne, premesso questo, succede che alle sei e mezza di mattina non ho più nulla da fare, ho già fatto tutto quello che dovevo fare. E quindi prendo la macchina, faccio il giro il più lungo possibile per recarmi al lavoro. E capita di girare dei quartieri quelli più periferici, non poveri, ma periferici. E c'è una netta distinzione palesemente evidente fra non tanto il verde ma la cura e l'attenzione per il verde di quartiere in quartiere rispetto al fatto che uno sia un quartiere residenziale e l'altro sia il classico. Purtroppo non mi va di dire nomi di località, però ci siamo capiti insomma. Diciamo che dove a livello sociale c'è meno attenzione da parte dell'amministrazione, questo si ripercuote non solo sul verde, si ripercuote sulla panchina, sul cestino non svuotato, sull'autobus che non passa mai e chiaramente anche sulla gestione del verde che molto spesso basterebbe un po' più di attenzione, forse con la stessa spesa si potrebbe ottenere meglio e rendere più partecipi i cittadini di una feeling di comunità, rendere la comunità più partecipe in questo senso. E già che ho la parola natura è cattiva, noi siamo la specie che sta vivendo in modo più innaturale in assoluto, da quando abbiamo inventato l'agricoltura, l'agricoltura credo che sia il primo esempio di innaturalità di un territorio necessaria, voi mi sentite? Perché vedo tutto bloccato. Certo, sentiamo perfettamente. Ok, da quando abbiamo inventato, fortunatamente sia chiaro l'agricoltura, abbiamo cominciato a spianare, deforestare, decidere dove vivere, cioè lungo un fiume, tutto attorno progressivamente in modo centrifugo, coltivare quello che ci serviva sempre con meno frequenza, fino ad avere nel posto più lontano, quello che ci poteva servire occasionalmente, ad esempio i tronchi per fare le travi di casa, che una volta che l'hai fatta una volta sei sostanzialmente a posto. E quindi natura è cattiva, natura non è cattiva, natura se sappiamo leggerla ci fa stare quei piedi per terra, ci sta semplicemente dicendo, comprese queste situazioni pandemiche, queste situazioni pandemiche, epidemiche, possiamo dargli la definizione che vogliamo, ma non voglio rifarmi all'invasione delle locuste dei Bruce Brothers, però ci sono mille esempi che fanno parte anche del nostro vivere quotidiano, anche proprio per analogia, a volte che fanno sorridere, in cui l'uomo vive con le epidemie e con le pandemie da sempre e non sa trarne insegnamento. Gli animali diversi dall'uomo, lo stesso, ma ne traggono insegnamento. Questo è proprio diverso, perché l'animale si sposta e migra con facilità. Io invece, se oggi mi dicessero, guarda, che c'è meno Covid in, che so io, a Praga, ci penserei prima di trasferirmi a Praga, no? Cioè non siamo più, non abbiamo più, e suppongo anche sia giusto, l'indole del muoversi verso la situazione che ti costa meno fatica per vivere in termini di spazio, di competizione, di risorse economiche e di benessere complessivo. Quindi la natura semplicemente ci sta dando dei segnali, amico mio, guarda, che forse stai esagerando un pochino. Grazie mille. Ora qualcuno che ha fatto un'osservazione e dice, sì, vedere un albero tira serena, se poi fai il tecnico del verde non è sempre vero. Questa forse è rivolta più a Giovanni Morelli. Al di là di questo, molti ci chiedono delle informazioni su l'iniziativa Un albero per ogni neonato, e questa la rivolgo a lei, Sindaco, e anche a Giovanni, o a chi crede di poter dirci qualcosa, che è questa iniziativa, se capisco bene, per cui c'è un registro in cui viene segnato per ogni bambino nato un albero. Viene applicata, a Campagnola Emilia si applica, scusate, ne so davvero poche, quindi interessa anche a me sapere come avviene questa cosa, se avviene. Grazie. Sì, allora, la norma, l'obbligo è per i comuni sopra i 15 mila abitanti, noi ne abbiamo meno. Aggiungo anche un ulteriore fatto che secondo me, allora, a parte l'obbligo, la legge c'è, di norma viene applicata per i comuni per cui è obbligatoria. Siamo in un momento di bassissima natalità anche, quindi se ci basiamo solo sui nuovi nati, non otteniamo dei grandi risultati. Mi permetto di aggiungere un paio di passaggi però, è stato detto prima, piantare tanto forse non è così, non va proprio nella direzione che tutti quanti noi auspichiamo. Forse bisogna anche rendersi conto che bisogna piantare con intelligenza, individuare bene e con un minimo di razio quello che vogliamo vedere sviluppato, che non vuol dire vedere le singole essenze per singole essenze, ma rendersi conto che andiamo a costruire un ecosistema, un ecosistema è una frase molto forte, però andiamo a costruire un ambiente ogni volta che scegliamo cosa piantare, cosa andare a potare, come ho detto in precedenza, e l'intervento umano ha degli effetti. Quindi a tutti quanti noi in Emilia Romagna ci piace pensare al filare in mezzo alla nebbia che ci accompagna, ci piace pensare a tutto quello che è il nostro ambiente di una volta, forse va ragionato, perché il nostro ambiente di tutti quanti noi ci ricordiamo, se pensiamo anche alla Marcord di Fellini, abbiamo un'idea di questo bellissimo ambiente immerso nella nebbia dove l'attività agricola l'ha fatta da padrone. Quindi non so se sia la scelta migliore andare a pensare per forza su un masterplan, quello che è la nostra idea, e dire che dobbiamo mettere giù 30 piante, la brutalizzo in modo molto veloce, ma forse fare un ragionamento un po' più ampio e dire qual è l'ambiente che ci aspettiamo tra, o perlomeno non tanto quello che ci aspettiamo, ma quello che vogliamo favorire, la rinaturalizzazione di certe zone, evitare l'insediamento urbano ovunque, andare a costruire dove oggi non ci sono qualche piccola isola verde che magari si svilupperà. Ne approfitto anche per rispondere un attimo a quello che è stato detto prima, il verde è un grande elemento purtroppo di disuguaglianza in alcune zone. Quando abbiamo affrontato il tema del parco urbano, ragionando con l'architetto che ci ha seguito, ci diceva che in alcuni comuni dobbiamo andare a fare, dobbiamo andare a rivedere alcune zone perché le persone, senza introdurre dei cliché, le persone sono in ambienti economicamente non eccessivamente fruttuosi, per cui non hanno la possibilità di mettersi un climatizzatore fuori casa. Ecco, in epoca lockdown, in epoca pandemia, in questi giorni dove noi siamo fortunati in Emilia Romagna, siamo fortunati, insomma siamo in una situazione non così pesante come possono essere in altre regioni, ma permettersi di poter uscire un attimo con il cane, io non ho animali, ma per venire in municipio a attraversare un parco, troppo no perché abito in piazza, quindi non ho posto neanche quello dietro la piazza, però chi può permettersi di fare i due passi mentre va a fare spesa, almeno avere l'effetto benefico che c'è nell'attraversare un luogo che è chiaro che deve essere curato e questo è il grande problema che le amministrazioni, oltre al fatto di piantare le piante, stanno affrontando in questo periodo perché concettivamente questo è un altro grande problema, ma è un film che non vado ad aprire perché sennò diventa lunga e l'effetto benefico dell'attraversamento di un'area ce l'abbiamo, il fatto che durante il lockdown non a tutti fosse permesso è un problema ed è un problema che non viene purtroppo tenuto in considerazione. Giovanni Morelli? Io a questo punto interverei sui dolori del tecnico comunale che in qualche modo lamenta. Allora, dietro c'è una distorsione di fondo per cui la gestione del verde in tutti i suoi aspetti viene percepita come un costo e non come un investimento. E il motivo sostanziale è che tutti i vantaggi che ci derivano dal verde non sono facilmente misurabili nella quotidianità. Abbiamo sentito la dottoressa Ivancic che ci ha parlato di benefici di natura psicologica. Io colgo questa mancanza di benessere nel momento in cui qualcuno mi mette in clausura in casa, mi impedisce di uscire e di vivere ciò che mi sembra far parte della mia normalità quotidiana se vado a fare due passi al parco e mi accorgo che quello mi manca nel momento in cui me lo tolgono. Ma sapete esattamente quello che accade con l'ossigeno? L'ossigeno non ci vede, ci viene dagli alberi, lo respiriamo tranquillamente ogni giorno, ci accorgiamo che ci manca l'ossigeno nel momento in cui ci mettono in un ambiente nel quale l'ossigeno è scarso. Mentre tutto ciò che apparentemente gli alberi ci tolgono, dal segnale wifi al segnale televisivo, al sole d'inverno piuttosto che all'ombra d'estate, alle foglie, nelle grondaglie, eccetera, è immediato. Quindi noi abbiamo la necessità di soddisfare un bisogno immediato che è quello dell'apparente decoro, uso una parola evidentemente odiosa, per cui le foglie vengono considerate un elemento in qualche modo di disordine o di mancata cura, quando invece sono l'elemento che garantisce il rinnovo della fertilità del suolo. Solo che per vedere le foglie, percepire il disordine, mi basta uno sguardo distratto. Per capire che le foglie sono un elemento che garantisce il rinnovo della fertilità del suolo, devo essere preparato anche culturalmente e di conseguenza alla fine se io non ho gli strumenti per cogliere il valore degli alberi, per non parlare ovviamente del valore culturale che il sindaco ci ha chiaramente illustrato per quello che riguarda la sua comunità, evidentemente degli alberi io faccio fatica a cogliere i vantaggi. Se incominciassimo a ragionare in termini di investimento, cioè l'albero come elemento che garantisce la qualità della vita per noi, come diceva Lucio Montecchio, per le generazioni future implicitamente, evidentemente tutto cambierebbe. E alla fine io immagino sempre questa relazione come una sorta di patto etico, nel senso che io non devo andare a ricercare i benefici che gli alberi mi possono dare, io devo semplicemente mettere l'albero nelle migliori condizioni di vita possibile e automaticamente tutti i vantaggi che mi derivano dall'albero mi cadranno tra le mani senza nessuno sforzo. Mentre quella natura violata, l'albero capitostato, l'albero costretto in una uola inadeguata, l'albero vissuto come un peso, un albero che non darà nessun vantaggio a coloro che vivono al suo cospetto e di conseguenza ecco quella disparità a cui alludevano gli altri che hanno parlato prima. Vorrei però anche fare un'ulteriore riflessione ad integrazione un po' delle cose che sono state dette. Allora quando si parla di natura o quando si parla di ambiente dobbiamo fare una distinzione perché quella delle nostre città non è certamente natura libera, no? La natura libera che voi avete visto nella foresta amazonica che ho proiettato in una delle mie slide è una natura che fa paura perché può ucciderti arrivare a sera, è la natura non controllabile nella quale io mi devo confrontare con degli strumenti di conoscenza specifici e dietro ogni albero o nell'albero stesso potrebbe nascondersi qualcosa che metterà in discussione la mia sopravvivenza. Ormai gli uomini che si confrontano con quel tipo di vita sono rimasti pochissimi, ammesso che ce ne siano ancora e certamente noi non abbiamo una memoria esperenziale diretta di quel tipo di relazione con la natura. Noi abbiamo esperienza però di un altro tipo di relazione che è quella agricola che giustamente evocava il professor Montecchio che però nell'immaginario di tutti noi è la relazione dei nostri padri o dei nostri nonni che vuol dire fatica e vuol dire miseria. Cioè noi in fondo siamo italiani, siamo tutti nipoti di contadini o di marinai, lasciamo stare i marinai che in questo momento non c'entrano, tutti gli altri sono contadini che nei campi hanno sudato e sono spezzati la schiena. Quindi nel momento in cui si tenta di affrancarsi da natura selvaggia e dalla natura agricola è un atto legittimo. Il problema è che noi abbiamo mancato nel trasformare questa natura che in qualche modo avevamo già modificato da migliaia di anni in qualcosa di nuovo altrettanto efficace per rispondere alle nostre esigenze di quotidianità e quindi soprattutto negli ultimi anni abbiamo seguito un'idea di decoro e dell'albero o dell'elemento vegetale come elemento di arredo urbano che evidentemente è fallimentare perché non ha portato oggi ad avere in quel verde un elemento di effettiva qualità che contribuisca in maniera significativa alla vita e quindi ecco che la qualità urbanistica o la qualità residenziale o la qualità nel luogo di lavoro si lega alla qualità della progettazione del verde, all'uso del verde e alla manutenzione e quindi si crea quella disparità di cui in qualche modo si parlava prima. Io resto convinto che tutto questo possa essere superato attraverso l'educazione e per educazione intendo sempre una abitudine alla convivenza. È inaccettabile che oggi noi sentiamo parlare dell'erba alta in un prato come un elemento di incuria o delle foglie cadute come un elemento di come dire degrado. Non è così, spendiamo centinaia di migliaia di euro per tagliare l'erba, lo diceva Lucio Montecchio prima, o per raccogliere le foglie, tutte azioni che vengono vanificate dal successivo colpo di vento, dalla successiva pioggia e non siamo in grado di investire sugli alberi che invece hanno bisogno di logiche di gestione che sono di carattere decennale per non dire secolare. Quindi è un cambio di cultura quello di cui noi abbiamo bisogno, che è cultura della manutenzione ed è cultura della convivenza. Ecco, secondo me si può lavorare e bisogna lavorare assolutamente in questa direzione.